VT a Tokyo, i risultati Rivoluzione in territorio nipponico. 24 ore fa, la caduta della transalpina Mladenovic, giocatrice di riferimento a Tokyo, in difficoltà sul cemento. Ennesima eliminazione prematura, fatica a ritrovare fiducia e tennis. Perde con la FET, 20enne croata di talento. Yana si ripete poi, cancella la Cepelova e si ritaglia un posto al sole. Tre turni di qualificazione e due successi nel main drive, può essere la sua occasione. Dopo la fermazione nel derby con la Osaka, Lanara si ferma al cospetto di Qiang Wang. 62-63 per la tennista cinese. Continua, invece, il cammino della Dijas. Quinta partita al Japan Women's Open Tennis, supera la seconda testa di serie, Shuai Zhang. Da segnalare, infine, il sigillo della Putin-Taseva. Prende vantaggio nel set iniziale, 62, poi sfrutta il ritiro di Xi Jinping per risparmiare preziose energie. La Putin-Taseva, quarti con la Dijas, è una delle due teste di serie ancora in corsa. Laltra è Lisa Mertens. Entrambe si trovano nella parte bassa del tabellone, sorprese in arrivo. Risultati FET, Cepelova 60-63. Chiang Wang, Nara 62-63 di Dijas, Zhang 64-62. Putin-Taseva, Ang 62-20 rit. Chiang Wang, Nara 62-130. Chiang Wang, Nara 83- artic certo, fell? Chiang Wang, Nara 63-62. Chiang Wang, Nara 64-90 Chiang Wang, Nara 56-61. Chiang Wang, Nara 14-15. Chiang Wang, Nara 65-60